Studenti protagonisti all'Istituto de Nicola Sasso di Torre del Greco per dire no alla violenza sulle donne. I rappresentanti delle Forze dell'Ordine, del Comune e della Regione, delle associazioni Beta e solo donne Rosanna si sono ritrovati questa mattina nella sala eventi della scuola per un incontro sul tema finalizzato a sensibilizzare gli alunni. Una tematica più volte approfondita dalla scuola, come ha sottolineato la dirigente Alessandra Tallarico. È una tematica che abbiamo affrontato anche lo scorso anno in occasione della festa della donna. Abbiamo indetto un concorso interno al quale hanno partecipato i nostri alunni e hanno realizzato per l'occasione dei cartelloni, dei video e anche dei manufatti. Ma lo scopo di questo concorso che avevamo indetto era di sensibilizzare gli alunni su questa tematica, che purtroppo è molto diffusa, infatti si sente spesso di episodi contro la donna, sia di violenza fisica che psicologica. L'istituzione scolastica è un'agenzia educativa per l'eccellenza, può fare molto al fine di sensibilizzarli, perché bisogna iniziare proprio dai più piccoli, che saranno poi gli adulti del nostro domani. Quindi la scuola, insieme anche alla famiglia, entrambe le due agenzie educative, collaborando insieme, possono fare veramente molto per sradicare un po' quelli che sono anche gli stereotipi di genere. Quindi sono veramente soddisfatta e ringrazio gli ospiti che ci hanno veramente onorato della loro presenza. In rappresentanza del comune, il sindaco Giovanni Palomba e la delegata alle pari opportunità, Yolanda Mennella. In qualità di delegata alle pari opportunità non ho voluto invitare la scuola a Palazzo Baronale, ma ho fatto in modo che fossimo noi scuola a invitare le istituzioni. Quindi ho convolto tutti i relatori e le relatrici qui da noi ed è stato un momento particolare, perché i protagonisti veri di questo evento sono proprio i ragazzi. Infatti abbiamo convolto i ragazzi delle terze e c'è una seconda. Ogni ragazzo ha preparato e in questo periodo ha cercato di dare il meglio, quindi di produrre comunque un lavoro fatto personalmente, seppure con un aiuto dei docenti, ma è un lavoro fatto proprio nel personale. Anche le colleghe si sono date da fare, quindi mi sono sentita due volte in famiglia, non solo come consigliera comunale qui nella mia casa, ma anche come docente di questa scuola. Grazie. 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 Grazie.